Siamo nella gola del Blettervack nella quale emergono per decine e centinaia di metri i porfidi che formano per l'appunto la zattera, lo zoccolo sul quale appoggia l'edificio dolomitico. Qua c'era il mare 235-240 milioni di anni fa, dobbiamo immaginarsi quel fianco come il bordo di un atollo che si appoggiava al fondo marino dove abbiamo i piedi noi adesso. Qui invece siamo nella vetrina dove vediamo dei coralli stupendi, questo proprio grande così, è un pezzo di barriera corallina. Questo è uno strumento che ho fabbricato con la selce e utilizzato per grattare e trattare la pelle fresca. Un riparo, questa volta riparava i cacciatori che abitavano nell'area. Questa era la fossa della soppoltura del cacciatore della Val Rosna di 14.000 anni fa. Allora, Marco, se ho capito bene, qui c'è l'ingresso della prima grotta che avete scoperto nel 1989. Questa è una spaccatura verticale, una frattura, che però si è rivelata essere per noi la porta d'ingresso principale e il grande sistema carsico che c'è sotto. Due ecchie trenta. Avessi qua quattro metri di neve, otterrei due metri scarsi di acqua. Quattro metri di neve, otterrei due metri di neve, otterrei due metri di neve. Quattro metri di neve, otterrei due metri. Quattro metri di neve, otterrei due 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 metri. Quattro metri di neve, otterrei due metri di neve, otterrei due metri di neve, otterrei due metri. Quattro metri di neve, otterrei due metri di neve, otterrei due metri.